Tutta questa vicenda, indipendentemente poi da come andrà a finire, è un'occasione di grande dolore, vedendo poi le sofferenze che questo ha suscitato in tutti, chi accusa, in chi accusato, in chi ascolta, in chi vede. Io so come ci siamo mossi noi, l'ho detto poco fa, soprattutto rispondendo a un bisogno di verità, e quindi la verità che andava cercata, andava scoperta e andrà evidentemente poi fatta conoscere e poi ecco questo che potesse avvenire in un clima di collaborazione anche con quell'autorità civile che deve indagare con i suoi strumenti e questo è bene che faccia. Ecco noi siamo stati e lo siamo ancora pronti alla collaborazione.